ecco vedete questa mucca che è zoppa ma non è la prima che vediamo di zoppa la cosa un po' particolare purtroppo non riusciamo a capire come mai qui a campo mulo ci siano parecchie mucche zoppe non vorremmo pensare male che fosse siano legate alla catena al piede non lo so strano ce ne sono parecchie parecchie di zoppe questo è un toro no no alle tette no alle tette no non ci sono toro no ma questo ti ha puntato sta puntando vedi come puntano